Vi ringrazio e anzitutto ringrazio gli amici di Mystery Hunter per avermi invitato quest'anno per la seconda volta, è sempre un piacere soprattutto perché è nata veramente una bella amicizia ed è sempre bello vivere questa esperienza con loro e anche visitare la Calabria che è un posto veramente meraviglioso e ci stanno facendo conoscere veramente sotto degli aspetti unici oltre che misteriosi e davvero bellissimi. Venendo a noi dopo l'intervento di Maurizio mi sono sentito di mettere una slide aggiuntiva all'ultimo momento, Derrell e Maurizio oggi ci hanno parlato degli ultimi 60 anni, 70 anni di eventi che riguardano contatti con esseri provenienti da altri pianeti con la razza umana, nella mia relazione e d'altrove, sicuramente perché ci sono varie ipotesi anche sicuramente altre possibilità. Nella relazione che vi presento oggi e nella relazione successiva di Armando Mei rivolgeremo il nostro sguardo al passato, un passato che ormai negli ultimi anni direi grazie ma anche non lo so se è il termine giusto, a programmi come Ancient Aliens, Enigmi Alieni ha riportato in auge i misteri del passato. Ho lavorato e collaborato con questa trasmissione che ha la pecca di avere forse spettacolarizzato e non solo determinati argomenti. Comunque quella che vedete è un documento della NASA uscito nel 2013 liberamente, per cui se fate una foto vi segnate il titolo, liberamente scaricabile da internet che si pone una serie di domande e qui ci colleghiamo tra il presente, inteso come l'ultimo secolo, con quello che è il passato. Si pongono delle domande, cioè archeologia, antropologia e comunicazioni interstellari. Il capitolo 13 e 14 sono fatti da due docenti accademici, l'intero libro è composto da contributi di vari docenti accademici americani, ma soprattutto il capitolo 13 e 14 viene buttata lì una cosa in maniera del tutto naturale mi sentite perché muovo, ok, viene buttata lì una cosa in modo del tutto naturale anche se forse potremmo dire è la prima volta che se ne parla ufficialmente. Questi due studiosi ci dicono apertamente che è possibile che nel passato del nostro pianeta altre civiltà, altri esseri provenienti da altri pianeti possono avere visitato la terra dove viviamo e che addirittura questi esseri possano da una parte aver lasciato delle tracce, dall'altra aver interagito con i popoli, le civiltà del passato, dandogli o donandogli parte delle loro conoscenze. Qualcosa di unico, qualcosa che penso quasi nessuno di voi conosca ma se ne parla già dal 2013 per cui sei anni fa la NASA ufficialmente pubblica questo libro gratuitamente scaricabile e si fa un accenno a quelli che sono antichi contatti. Antichi contatti che come molti di voi sapranno si trovano in tutto il pianeta. Si parla di Sumeri, si parla, mi sa che da qua non lo prende, si parla di Sumeri, si parla di Egiziani, Sud America, Mauro Biglino negli anni passati ci ha parlato della Bibbia e del popolo ebraico. Il mio interesse converge principalmente sul mondo indiano e sull'Asia, in particolar modo sull'India. Ma se guardiamo a quello che è la storia del nostro pianeta, la storia delle grandi civiltà che hanno fatto l'umanità, ci accorgiamo di tutta una serie di anomalie che si possono riscontrare. E soprattutto in quelli che sono i loro miti o leggende e nelle loro religioni troviamo tutta una serie di dati che sono in certi casi veramente qualcosa di unico. In particolar modo in India noi troviamo, ripeto, l'ambito di studio a cui mi riferisco, troviamo tutta una serie di nozioni, informazioni veramente spettacolari. Facendo un piccolo passo indietro, queste che vedete sono le cinque più grandi civiltà che hanno dato origine, secondo la storia ufficiale, che hanno dato origine all'umanità come la conosciamo oggi. Abbiamo gli Olmechi in Sud America, gli Egiziani, Sumeri, la Valle dell'Indo, detta anche civiltà arappa dalla prima città scoperta a metà dell'Ottocento e la civiltà del fiume giallo. Come vedete tutte si collocano lungo una linea equatoriale e ci sono delle spiegazioni, almeno delle ipotesi suffragate anche da evidenze di fatto su questo motivo, ma lo vedremo alla fine. Troppo avanti. Quella che vedete qua invece, un po' in piccolo, è una cartina di quello che viene chiamato Estremo Oriente e Vicino Oriente. Tutti conosciamo gli Egiziani, che sono colorati in verde, la Mesopotamia, che è qua colorata in arancione, un po' falsi colori. Quella che vedete in viola, molto probabilmente era ancora più estesa di quello che vedete, è la civiltà arappa, civiltà della Valle dell'Indo, del tutto sconosciuta. Chiedo a ognuno di voi chi è che l'abbia studiata a scuola. Solo negli ultimi anni, 5-6 anni, nei libri delle medie o del liceo, si accenna con pochissime righe all'esistenza di questa civiltà misconosciuta, appunto che si trovava a cavallo tra l'India del Nord, il Pakistan, premetto che il Pakistan è una realtà moderna, nata nel 1947 a seguito di una lotta sanguinosa che portò alla divisione di una maggioranza musulmana dall'India, e una parte dell'Afghanistan. Pakistan e Afghanistan, territori che meravigliosi ci nascondono, ed è il termine forse più adatto ancora oggi, una quantità incredibile di informazioni, di dati storici, di conoscenze, ci nascondono perché Pakistan e Afghanistan, come forse vi ricorderete, sono stati e sono ancora oggi oggetto di guerre, guerre che durano da decine di anni, di supremazia tra i talebani, tra le varie realtà che si trovano in questi luoghi. Ma sappiamo benissimo che una delle prime culle della civiltà umana si trova proprio in questi posti. In India, oggi conosciamo l'induismo, anche se poi in Occidente c'è arrivata una versione dell'induismo abbastanza deformata, parallelamente noi abbiamo un'altra religione che si perde nella memoria del tempo, che è lo zoroaustrismo. Ancora oggi esistono in India i parsi, ma esistono anche in Italia, ci sono coloro che seguono lo zoroaustrismo, ed è una religione antichissima con dei punti di contatto con l'induismo veramente incredibili. Fatto è che noi conosciamo poco o nulla della civiltà arappa. Considerate che la prima città arappa viene scoperta all'incirca a metà dell'Ottocento, la seconda più grande è Moenjodaro, la seconda città più grande, e la vedremo fra pochissimo, scoperta nel 1920. Ad oggi, e il numero aumenta sempre di più, sono state trovate più di 2.000 città, siti archeologici, appartenuti a questa civiltà. Una civiltà che nasce, come avrebbe detto Totò, mi rifaccio a quello che diceva prima Maurizio, già imparata, perché il problema della civiltà arappa è che non c'è un'evoluzione storica, già le città che noi troviamo, anche le più antiche, hanno una urbanizzazione veramente unica, hanno una costruzione della vita cittadina veramente unica, come troviamo nelle città moderne. E un altro fatto interessante è che questa civiltà scompare all'incirca tra il 2000 e il 1800 avanti Cristo, quindi 4.000 anni fa, e fino a metà dell'Ottocento nessuno si ricorda più che c'è stata una civiltà così immensa. Casualmente gli inglesi, che appunto avevano il governatorato su tutta l'India e quindi il Pakistan, iniziarono a prendere quelli che erano dei mattoni cotti in fornace, che trovavano molto spesso lungo le strade principali, e servivano per costruire edifici, per costruire anche le prime ferrovie. Cosa succede? Si rendono conto che questi mattoni sono antichi, si rendono conto che c'è qualcos'altro, che c'è forse dei siti archeologici, non scavati, non scoperti, che celano qualcos'altro. E a metà dell'Ottocento appunto iniziano i primi scavi ad Arappa e viene fuori una città che ospitava nel 2000 a.C. 20.000 abitanti, quindi qualcosa di veramente enorme e immenso. Da lì viene riscoperta la civiltà della Valle dell'Indo e la cosa curiosa, come vi dicevo, è che non ci sono riferimenti, cioè scompare proprio dalla storia. Ci sono dei minimi riferimenti quando Alessandro Magno, nel III secolo a.C., entra in quella che viene chiamata la Bactria e trova alcune città totalmente disabitate, secondo le tradizioni dell'epoca, da secoli se non millenni. Ma della civiltà arappa non si sa nulla per quasi 4.000 anni. Il fatto curioso è che questa civiltà si lega veramente in maniera indissolubile non solo con quello che è tutta la tradizione indiana, tutta la storia dell'India, ma anche con altre civiltà che sono appunto quella mesopotamica e quella egiziana. E la cosa curiosa è che questa civiltà scompare in un momento preciso. Abbiamo detto 1800-2000 a.C. Guarda caso, se noi guardiamo altre tradizioni, da un po' quello che abbiamo fatto anche con Mauro Biglino qualche anno fa, con un libro scritto assieme, ci sono altre civiltà che scompaiono, comunque hanno un epilogo, nello stesso periodo storico. Una di queste è un evento che tutti conosciamo, infatti la domanda che cosa successe nel 2000 a.C., tutti noi conosciamo la tradizione di Sodoma e Gomorra, descritta nell'Antico Testamento, in cui si parla della distruzione di queste due città da parte di Yahweh, perché erano empie e si erano date alle pazze gioie. Il discorso è che storicamente per tanto tempo si è cercato di trovare la possibile ubicazione di Sodoma e Gomorra. La cosa curiosa è che da una ventina d'anni a questa parte è stato trovato proprio a nord del Mar Morto un sito archeologico che oggi si chiama Tale e la Mamma, che corrisponde perfettamente a quello che doveva essere l'ubicazione della Sodoma descritta nell'Antico Testamento. Dio manda questo fuoco che piove dal cielo, che distrugge la città, uccide Lot che si gira per guardare che cosa sta succedendo. La descrizione che ne viene fatta e che lo stesso Biglino ha ripreso più e più volte è quella di oggi potremmo paragonarla ad un evento esplosivo che cade dal cielo e distrugge quello che era la città di Sodoma. Tra l'altro si parla di almeno cinque città che erano state distrutte. Cosa curiosa, ci sono degli archeologi ufficiali, molte delle cose che dirò, anche sottolineandolo, sono da fonti ufficiali, ci sono degli archeologi che, come dicevo, da circa una ventina d'anni sono andati a cercare, a scavare in vari luoghi di Israele, Palestina, del Mar Morto. Tale e la Mamma è un unicum. Cosa succede? Noi a Tale e la Mamma troviamo la parte sud della città letteralmente cosparsa di questi oggetti. Che cosa sono? Sono stati chiamati semplicemente vetri del deserto. In realtà si tratta di porcellane, di oggetti di uso comune, mattoni, bracciali, oggetti che facevano parte della vita quotidiana di queste persone, che in alcuni casi hanno raggiunto temperature superiori ai 900 gradi e si sono vetrificate, da cui il colore verdastro. In altri casi, come questo, gli studi condotti, le analisi di laboratorio condotte, ci dicono che questi oggetti hanno raggiunto una temperatura di 6.000 gradi per pochi secondi. Non sono io a dirlo, smentibile, ma analisi ufficiali, fatte da diverse università. Il fatto assurdo è che 6.000 gradi è la temperatura del nostro sole. Il fatto assurdo è che gli archeologi stessi, nei paper, negli studi che hanno pubblicato su riviste scientifiche ufficiali, si dicono loro stessi ignari di che cosa possa avere creato questo fenomeno che ha portato alla distruzione di tale Lam Mamma. Chiamano in causa, l'unica ipotesi che riescono a fare, è un evento simile a quello di Tunguska, avvenuto nel 1908. Per chi non lo conoscesse, a Tunguska, nella taiga siberiana, nel 1908, un oggetto, c'è chi dice un meteorito, c'è chi dice una nave aliena, non si sa bene cosa, entra nell'atmosfera, esplode in quota e distrugge una parte della foresta immensa. Si parla veramente in certi casi di decine e decine di chilometri. Ma non abbiamo eventi del genere, non abbiamo, scusate, residui del genere. Nel caso di Tunguska abbiamo solo questa foresta che viene letteralmente distrutta. Le prime spedizioni, tra l'altro, arriveranno in quei luoghi vent'anni dopo, ma anche oggi l'Università di Bologna e il CNR di Bologna sono andati negli ultimi decenni a fare delle indagini sul posto, non è stato trovato nessun residuo e ancora oggi la domanda è che cosa è successo a Tunguska, ma niente del genere simile a questo. L'unica spiegazione plausibile è che qualcosa, non sappiamo cosa, è esploso in aria, o comunque sia ha sprigionato una bolla di calori in aria, tale da portare alla fusione di argilla e di mattoni, oggetti di uso comune, fino a raggiungere temperature, come vi dicevo, tra i 900 e i 6.000 gradi per tempi ridottissimi, il che vuol dire pochi secondi. Tenetelo bene a mente perché questo dato lo ritroveremo tra poco. Ovviamente spiegazioni non ci sono se non prendendo l'Antico Testamento e quindi rapportando quelle che sono le descrizioni dell'Antico Testamento con quelli che sono i residui, gli oggetti che possiamo trovare a tale Lammam. Un qualcosa del genere noi lo ritroviamo anche nelle tradizioni sumere, in Mesopotamia. Non è il mio campo specifico, però negli anni, leggendo come tutti noi, troviamo collegamenti, troviamo punti a cui agganciare non tanto le proprie teorie. Io ho cambiato anche idea diverse volte quando andai a Mohenjo-daro in Pakistan, ero sicuro che ci fosse stato un evento nucleare, poi i fatti mi hanno smentito e rileggendo i testi antichi è venuta fuori un'altra realtà. Ma tornando ai sumeri, in Pakistan ci arriveremo fra poco, cosa ci raccontano? Ci raccontano anche qui una guerra tra divinità, una guerra fatta con oggetti che sembrano anomali per quelli che erano gli oggetti del tempo, armi di distruzione di massa, come ci viene detto in molti testi, cui nei formi, e anche qui si parla della distruzione di città ad opera di queste armi divine che addirittura bisogna chiedere il permesso per utilizzare perché troppo distruttive, fatto è che la civiltà sumera finisce circa nel 2000 a.C., anche qui il periodo è lo stesso, e è bello forse raccontare una tradizione in particolare legata appunto ai sumeri, cioè a seguito di questa guerra avvenuta in principal modo tra Enchi e Enlil, che erano due divinità, e all'utilizzo di un certo tipo di arma si sprigiona quello che viene chiamato il vento del male, una nube. I testi narrano in questo modo, una nube che uccideva tutto quello che incontrava, e intendo di organico, quindi qualsiasi forma vivente questa nube incontrasse, veniva uccisa. È impossibile oggi andare ovviamente in Iraq o in queste zone, perché fino all'altro ieri erano sotto l'Isis, per cui, e poi l'Isis ha distrutto, non dico buona parte, ma una grande parte di quelli che erano appunto i resti archeologici della civiltà sumera, accadiche, di altre civiltà che poi si sono avvicendate nei secoli e nei millenni in queste zone, ma abbiamo queste tradizioni che sono un dato di fatto. È facile dire, sì, certo, era un ordigno atomico fatto esplodere da questi esseri che non erano altro che alieni e che ha portato a una sorta di genocidio. Certo, piace anche a me questa ipotesi, non lo possiamo sapere, però si tratta di ipotesi molto di confine, ma sicuramente quello che viene descritto in questi testi con i formi antichi migliaia di anni assomiglia. Non lo sapremo finché non riusciremo ad andare in quei luoghi ad analizzare il terreno, a capire che cosa può essere realmente successo. Però questi miti intanto sono un punto fermo da cui partire. Spostandoci in India, stesso periodo storico, la civiltà rappa, come dicevo, finisce nel 2000 a.C. L'India è un mondo per chi non ci fosse stato, è un mondo veramente complesso, è un mondo veramente articolato e solo dopo tanti anni che uno lo studia o lo vive può essere compreso, non dico pienamente, ma a grandi linee. Ad esempio, tutti noi crediamo che gli induisti siano politeisti per cui adorino tante divinità, c'è chi si è divertito e ne ha contate 33 milioni, loro ci dicono un'altra cosa, no, noi crediamo in un solo Dio e in 33 milioni di emanazioni. Gli stessi Vishnu, Shiva, Krishna e tanti altri non sono altro che emanazioni del divino. Allo stesso tempo, buona parte, se non quasi tutta, la loro tradizione è stata per secoli e millenni una tradizione orale, una tradizione trasmessa da maestro a discepolo, come dicono loro, da bocca a orecchio e che si è mantenuta inalterata, anche se può sembrare impossibile, nel corso dei millenni. anche loro hanno le loro saghe epiche, un po' come la nostra Elia di Odissea, in particolar modo loro hanno il Mahabharata e il Ramayana, che sono dei testi epici ma allo stesso tempo sono anche dei testi religiosi. Nel Mahabharata una parte è la Bhagavad Gita, chiamata anche il Vangelo d'Oriente, dove ci sono degli insegnamenti bellissimi che Krishna, una delle tante figure presenti, impartisce ad Arjuna. La cosa importante è però che Mahabharata e Ramayana sono chiamati nel mondo indiano-induista Ittiyasa in sanscrito. Questo che cosa vuol dire? Ittiyasa letteralmente vuol dire ciò accadde realmente. Cioè loro stessi ci dicono quello che noi abbiamo raccontato all'interno di questi due poemi sono fatti reali, sono eventi avvenuti realmente che poi ovviamente sono stati infiorettati, abbelliti con quello che è ovviamente la prosa e la poesia dei secoli però il nucleo il cuore di questi eventi è avvenuto realmente. Il paragone scontato è un po' quello con Schliemann e Omero la città di Troia. Tutti presero per pazzo questo personaggio che voleva semplicemente vedere se questa città descritta nei poemi omerici fosse reale e si trovò davanti a una città che corrispondeva appunto alla città di Troia descritta appunto nei poemi omerici. Questo è importante perché se noi leggiamo e vediamo cosa ci dicono soprattutto ora ci concentreremo nel Ramayana questi poemi noi abbiamo davanti veramente un mondo che ci si apre. I test indiani i testi religiosi vi dico subito che sono più di un migliaio sono tantissimi il caposaldo e il veda letteralmente vuol dire la conoscenza o conoscenza un testo che poi fu diviso in quattro libri per essere più fruibile come ci dicono gli stessi test indiani all'umanità ma il fatto interessante è che in questi testi religiosi indiani di cui è stato tradotto neanche il 5% in inglese o tedesco in italiano non abbiamo praticamente nulla se non dei riassunti dei riassunti in questi testi noi possiamo trovare qualcosa di sconcertante cioè non c'è solo una parte religiosa una parte filosofica ma ci sono nozioni e cognizioni anche scientifiche tali che diverse università indiane da circa 15 anni stanno riprendendo e cercando di ricreare e questo gli ha permesso di creare delle tecnologie sulla base appunto del Ramayana del Mahabharata o di altri testi sacri indiani tecnologie di un certo livello ne parlai l'anno scorso ma ad esempio sono riusciti a ricostruire all'università di Bombay un pannello solare in forma liquida ora ditemi voi com'è possibile che in un testo attribuito al 3500 a.C. vi sia presente una descrizione di un oggetto del genere associato ai Vimana che non erano altro che i carri volanti degli dei induisti una tecnologia che noi iniziamo a creare in Giappone solo nel 1972 io la mia risposta ce l'ho lascio la risposta a voi a ognuno di voi fatto è che questo è un metro un indicatore di quello che può essere trovato nei test indiani nel Ramayana in particolar modo troviamo la descrizione di una guerra ovviamente i testi epici sono quasi sempre unicamente racconti di guerra storie d'amore di eventi di vario tipo il personaggio Rama da cui Ramayana appunto ha una moglie e questa moglie bellissima sita viene rapita da un demone chiamato Ravana Ravana al suo Vimana chiamato Pushpaka Vimana rapisce la moglie di Rama ma la porta nella sua città Lanka ve la sto sintetizzando enormemente cosa succede? ovviamente Rama cerca di liberare di salvare sua moglie in ogni modo possibile e quindi inizia un viaggio bellissimo per chi ha modo di leggere il Ramayana dove incontrerà tanti saggi tanti personaggi tanti uomini e da qui nascono quello che vi dicevo prima lezioni di tipo filosofico religioso e anche di vita ma la cosa più importante è che lui deve raggiungere Lanka Lanka è la città dove viene tenuta sua moglie per tantissimo tempo l'epica induista ha visto nella città di Lanka l'isola dello Sri Lanka ovviamente Lanka vuol dire isola letteralmente in sanscrito il problema è che se voi leggete il Ramayana e vedete come è fatto lo Sri Lanka sono totalmente diversi non c'entrano niente cioè sembrano due luoghi del tutto diversi la cosa ancora più curiosa è che il nome Sri Lanka è un nome recente viene dato all'inizio degli anni 70 a quella che prima si chiamava Silon o ancora prima veniva chiamata Serendip da cui il termine Serendipità Serendipiti cosa succede? ci sono tanti studiosi che nel corso indiani ovviamente che nel corso degli anni hanno cercato di trovare una collocazione storica un po' come fece Omero a questa mitica città di Lanka questo è un articolo del The Times of India del 77 in cui un docente universitario il professor Roy identifica per primo la città di Lanka del demone Ravana con Mohenjo-Daro una città veramente meravigliosa veramente unica e guarda caso in questo in questo caso specifico quello che ci troviamo davanti è una città immensa una città fortificata una civiltà una città che apparteneva alla civiltà della Valle dell'Indo alla civiltà arappa che citavamo prima e guarda caso oggi è un deserto fa parte del deserto del Tar ma nel 2000 avanti Cristo e prima Mohenjo-Daro si trovava in una zona estremamente verde con raccolti con animali questo ce lo testimonia l'archeologia del posto la cosa ancora più curiosa è che accanto a Mohenjo-Daro torno un attimo indietro qui non si legge bene ma scorre un fiume il fiume Indo che è forse più importante quasi del Gange un fiume immenso che più volte all'anno esondava le acque uscivano dal letto del fiume e inondava tutta la zona intorno alla città creando un'isola Mohenjo-Daro la popolazione di Mohenjo-Daro non veniva uccisa loro praticamente si trasformava infatti veniva chiamata la Venezia dell'antichità si trasformava in un'isola e questa gente continuava la vita di tutti i giorni erano prevalentemente commercianti era un popolo tutta la civiltà rappa che sicuramente aveva il suo esercito ma il loro ruolo principale era quello il loro scopo e quello che i resti archeologici ci hanno permesso di trovare era una civiltà commerciale al punto tale che noi sappiamo anche commerciavano con i sumeri ma lo vedremo dopo una città che in quello che è la descrizione del Ramayana la possiamo ritrovare totalmente in quello che era la Mohenjo-Daro dell'antichità Mohenjo-Daro è un nome moderno letteralmente vuol dire la collina dei morti perché fino a qualche anno fa la spiegazione era quella che essendoci stata una guerra di cui stiamo parlando ed essendo stati utilizzati degli ordini anche qui atomici secondo molti studiosi la zona era invivibile la zona era radiattiva non si poteva vivere in tutto quello che era il territorio prospicente la moderna Mohenjo-Daro nella realtà dei fatti questo nome nasce da un altro motivo cioè il fatto che prima di essere scoperta nel 1920 22 tutta questa zona era un enorme crematorio a cielo aperto induista il Gange come il fiume Indo sono due fiumi veramente sacri per questo per questo popolo per questa civiltà per gli induisti bruciavano i loro cari i loro parenti e ovviamente riversavano le ceneri come si fa ancora oggi ad esempio a Varanasi nel Murtigat e riversavano le loro ceneri nel fiume Indo nulla di strano per questo Mohenjo-Daro non per altri motivi la cosa interessante come si diceva è che tante persone hanno collegato Mohenjo-Daro con la lanca descritta nel Ramayana ed è vero ed è molto probabile perché come vi dicevo sono tanti e sempre di più gli studi che stanno interlacciando queste due realtà incuriositi da questi eventi nel 2012 insieme a una truppa televisiva ho avuto la fortuna di andare in Pakistan la situazione non era piacevole perché un mese prima c'era stato l'attentato a Malalla forse qualcuno di voi se la ricorda è quella bambina che poi ha vinto il premio Nobel per la pace e quindi la situazione del Pakistan in quel momento era molto tesa al punto tale che c'erano stati anche degli attentati quando noi siamo atterrati fatto è che noi dormiamo a Caraci hotel che dire di lusso era poco nel senso che erano hotel che erano più dei fortini c'era il filo spinato c'erano agenti con i Kalashnikov all'ingresso erano dei blindati dormiamo a Caraci e il giorno dopo ci avventuriamo in nove ore di viaggio anche se la distanza non è tanto fino ad arrivare alla città di Moenjodaro arriviamo che sono circa le sette sette e mezzo di sera temperatura percepita 46 gradi la notte considerate che la temperatura scendeva sui due tre gradi quindi un bello sbalzo termico quello che c'è davanti quello che ci si presenta davanti ero io e il regista e il cameraman poi ne nacque un documentario che è andato in onda su voi ager tagliatissimo mi sembra 48 minuti ne hanno mandati in onda 16 ma comunque lasciamo stare lo fanno sempre avrete l'originale mi sa che ce l'ho anche nel computer per cui e cosa succede ci rendiamo subito conto che quello che si legge sui libri è bellissimo ma le cose vanno viste di persona bisogna toccare con mano quello che sono questi luoghi una civiltà che ha almeno 5-6 mila anni e quello che abbiamo davanti è una città immensa un sito archeologico veramente sterminato ne sono stati recintati 100 ettari ma molto probabilmente 4 volte più grande e ovviamente documentandoci prima di andare quello che apprendiamo su Moangiodare è sconcertante questa città nel 2200 a.C. aveva una popolazione di 100 mila abitanti 100 mila abitanti in quel momento storico è come parlare oggi di città del Messico cioè una città da 20 milioni di abitanti e la cosa assurda è che questa è una stupa buddista praticamente negli anni 20 ristrutturando questo stupa ci si è accorti che sotto i depositi del tempo c'era un'intera città che è quella che vi facevo vedere all'inizio per cui questa scoperta la scoperta di questa città è venuta in modo del tutto casuale inaspettato e l'estensione come si vedeva prima era veramente enorme questa era la città principale la città alta la città bassa poi ovviamente tutto attorno fuori dalle mura cittadine esisteva un'altra città come avveniva anche in occidente ovviamente a parte questo personaggio che cammina nelle rovine vi dicevo è immensa ma la cosa ancora più stupefacente è che Moenjo Daro quantomeno nel 2000 a.C. quindi 4000 anni fa scusate se mi ripeto ma si parla di date veramente lontane e di una tecnologia e di una urbanizzazione veramente unica queste persone questa civiltà Vallinda o Arapa era riuscita a creare lo scolo per le acque chiare lo scolo per le acque scure c'era l'illuminazione stradale vedete queste nicchie la sera venivano messe delle lampade probabilmente a olio per illuminare le strade quindi non scontrarsi con altre persone e le case avevano fino a 3-4 piani avevano l'acqua corrente sono stati trovati dei pozzi più di 400 pozzi alcuni attivi ancora attivi a distanza di 4000 anni è qualcosa di stupefacente il problema è che questa città come vi dicevo insieme ad altre ma questo è un esempio emblematico nasce già così cioè non c'è un'evoluzione la cosa assurda è che delle tracce degli antenati della civiltà arappa possono essere trovati ancora oggi nel Belucistan a confine tra Pakistan e Afghanistan il sito di Mergar è anche qua la data è assurda ma comprovata il sito di Mergar risale all'8000 avanti Cristo per cui stiamo parlando di 10.000 anni fa no non era avanzata in questo modo era molto più piccola si parla di almeno 2-3.000 abitanti e quello che sono stati trovati sono praticamente delle strutture a forma rettangolare o cubica che erano dei granai però si è riusciti a datare con il radiocarbonio la termoluminescenza il periodo ed è l'8000 avanti Cristo impossibile non concepibile è vero lo dicevano anche di Goblachitepe che è datata tra il 12 e il 13.000 avanti Cristo Schmitt che è stato l'archeologo tedesco che ha studiato per una vita 12.000 Schmitt che l'ha studiata per una vita solo alla fine della sua vita è riuscito a far accettare alla comunità scientifica archeologica internazionale che quel sito aveva 14.000 anni e del 12.000 per un semplice motivo perché una collina hanno iniziato a scavare dall'alto e si sono resi conto che man mano che si scava si trova altri livelli sotterrati o comunque sia volontariamente perché Goblachitepe è stata sotterrata volontariamente che sono sempre più antichi quindi qualcuno in quelle epoche c'era realmente così come a Mergar così come a scusate così come a Goblachitepe c'era qualcuno che aveva delle cognizioni tecnico-scientifiche che gli permetteva di costruire qualcosa di impossibile per la storia ufficiale noi in quelle epoche avevamo la clava e i Flintstone sono un bellissimo esempio di quello che la storia ufficiale attribuisce all'uomo di quell'epoca e lì in realtà no vi dicevo Moenjodaro 100.000 abitanti cosa succede? nel 2000 a.C. circa questa città viene spopolata letteralmente tutti i siti della civiltà arappa quindi si parla di almeno 2000 città vengono spopolate l'ipotesi questa è una foto presa alle se non sbaglio 5.30 6 di mattina un freddo cane poi dopo la temperatura si alza veramente velocemente e cosa succede? abbiamo non esiste un motivo per cui questa civiltà un motivo valido sostenuto dagli archeologi per cui questa civiltà con le sue più di 2000 città sia scomparso vengono semplicemente abbandonate queste città c'è chi parla dell'invasione ariana e qui è un discorso che necessiterebbe non di un'altra relazione ma di un'altra conferenza di qualche giorno il fatto è che in soldoni la cosiddetta invasione ariana cioè popoli occidentali che entrano in India e uccidono distruggono la civiltà precedente ormai quasi del tutto smontata sia per riscontri archeologici sia per riscontri genetici sicuramente ci fu un influsso di popolazioni esterne ma non tale da distruggere una civiltà non si sa ancora oggi anche chiedendo a Moen Jodaro in altri luoghi cosa portò alla distruzione di mi scusi allora ne parliamo dopo però è sicuramente precedente a queste epoche cioè anche in India abbiamo un mito del diluvio e le tradizioni che parlano di questo diluvio sono molto simili a quelle dell'Antico Testamento ne parliamo dopo così però in questo caso specifico non è stato un diluvio che ha distrutto questa città anche perché rimangono le case le rovine di 100.000 abitanti vengono trovati solo 43 scheletri semplicemente le città vengono lasciate abbandonate senza un motivo apparente e vengono ovviamente ricoperte dai sedimenti vengono ricoperte dalle intemperie per cui si perde memoria della civiltà rappa che verrà riscoperta appunto tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento andando sul posto ovviamente avendo letto e sentito parlare per tantissimo tempo di esplosioni nucleari in Ramayana ci parla appunto di armi divine che erano state utilizzate per uccidere il demoneravana la prima cosa che ho portato con me nascondendola è stato un contatore Geiger cioè uno strumento in grado di rilevare la radioattività ne avevo diversi ma tutti per darvi un'idea tutti danno un valore cioè un valore di radioattività di fondo che è normalissimo è come la radioattività che troviamo qui in questa stanza in questo momento abbiamo scavato ovviamente non si poteva però considerate che quando il direttore di Moen Jodaro del sito archeologico viene a trovare viene a salutare me e le altre due persone portava con sé il suo greggio di pecore che scorrazzava per i monumenti per cui vi rendete conto nonostante sia un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO il livello di considerazione che viene dato a queste rovine archeologiche il fatto è che noi nei giorni ci siamo stati quattro giorni abbiamo fatto scavi sondaggi carotaggi non si poteva però lo abbiamo fatto e il livello di radioattività ambientale è quello di fondo per cui nulla di che e con questo abbiamo poi altre analisi successive le vedremo dopo hanno dimostrato che non è possibile che un evento nucleare sia avvenuto in quella zona ci spostiamo io la voglia e la curiosità era immensa ci spostiamo nella zona sud della città e cosa ci troviamo davanti avete visto le foto prima ne ho messe poche si parla di dei resti di case in cui i muri erano ancora alti fino a 4-5 metri si parla di una città che ancora si può vedere nonostante molto probabilmente fra 50 anni sarà distrutta dall'incuria e dal tempo chiudo la parentesi cosa succede nella zona sud di Moenjodaro quello che trovate è questo io sono qua in mezzo questo è un frame del documentario quello che vedete qui sui lati sono cumuli di pietre rosse sono case sono resti di case sbriciolate polverizzate da qualcosa prima di me ovviamente io ho proseguito ho tentato di proseguire gli studi di un personaggio semi sconosciuto si chiamava David William Davenport è nato in India sapeva 14 lingue morto giovanissimo in Italia lui nel 79 scrive Aldo grazie te lo frego un attimo Aldo Cristiano è veramente è una biblioteca mobile questa è una riedizione dell'anno scorso pubblicata dalla mia casa editrice Enigma Edizioni Davenport che cosa fa nel 79 scrive questo libro 2000 avanti Cristo distruzione atomica che è 2000 avanti Cristo distruzione atomica che non è altro che il suo resoconto di viaggio insieme ad Ettore Vincenti che era un giornalista italiano proprio a Moenjo Daro proprio a cercare di capire e comprendere quelli che erano grazie i segreti di questa città e quello che era successo nell'edizione che vi facevo vedere poco fa abbiamo portato avanti il suo discorso pubblicando anche le analisi che vi farò vedere fra poco Davenport che cosa diceva Davenport diceva che nella zona sud e guarda caso il Ramayana ci racconta questo nella zona sud della città durante la guerra tra Rama e Ravana il demone cattivo erano stati impiegati dei Vimana quindi dei velivoli e soprattutto delle armi divine che fra poco vedremo che avevano provocato una distruzione immensa un po' come Sodoma era piovuta dal cielo fuoco e cenere che aveva distrutto una parte non tutta la città la cosa curiosa è che noi nel Ramayana troviamo anche un avvertimento nei capitoli finali dove viene detto alla popolazione di Lanca andatevene perché se rimarrete a Lanca fra una settimana pioverà fuoco e cenere praticamente come nel racconto dell'Antico Testamento di Sodoma la cosa curiosa anche qui sono tutti parallelismi poi ognuno è libero di fare le sue deduzioni è che una città di 100.000 abitanti viene letteralmente spopolata e vengono trovati come vi dicevo solo 43 scheletri alcuni in condizioni particolari ma lo vedremo fra poco la parte sud della città quella che nel Ramayana e per Devenport era stata oggetto principale del conflitto è in queste condizioni le case sono polverizzate sono cumuli di mattoni realmente sbriciolati e quello che vedete per terra è una distesa sterminata veramente di oggetti neri oggetti fusi e vetrificati forse qui si porta si vede un po' meglio qui si vede meglio in che condizioni sono le case questi oggetti fusi e vetrificati che non ho potuto portare con me perché in aereo al check-in e quant'altro non me li avrebbero fatti passare ma ce n'ho ancora diversi pezzi a casa che ho fatto analizzare nel corso di questi anni e le vedremo fra poco le analisi sono oggetti fusi sono oggetti di varia natura questo ci arriviamo fra poco questo per esempio è un mattone vetrificato la vetrificazione come si vedeva prima è da questa colorazione verdastra che avviene all'incirca ad una temperatura di 900 gradi originariamente questi erano dei mattoni cotti non al sole ma in fornaci altri oggetti erano di questo tipo questo per esempio è un pezzo che ho a casa verdastro ed era probabilmente un pezzo residuo di un'anfora in altri casi erano bracciali il fatto assurdo ritorno un attimo indietro è che in una zona stimata in circa di 400 metri di diametro noi troviamo la distruzione totale qualsiasi cosa si trovava lì all'incirca 4.000 anni fa viene letteralmente distrutta e sbriciolata le ipotesi sono tante non c'è un cratere lo stesso Davenport nel 77 nota questo fatto l'unica spiegazione possibile è che questo evento sia avvenuto in quota viene chiamato evento esplosivo sia avvenuto in quota da qui tutta una serie di ipotesi però non è una zona sismica non è una zona vulcanica tanto meno non è una zona dove c'è stato un impatto meteorico perché avremmo trovato ad esempio l'iridio che viene trovato quasi sempre grazie mille durante gli impatti meteorici non sono scarti di fornace perché comunque sia io non sono competente ho una laurea in tutt'altro ma chi lavora su certi tipi di ceramiche o oggetti cotti in forni e vi dico che il metodo usato per creare questi mattoni viene usato ancora oggi in quelle zone non produce questo tipo di oggetti la cosa ancora più incredibile è il fatto che le analisi ci dicono che cosa può essere successo ovviamente molti di questi sassoni mi sono caduti in tasca e me li sono portati in Italia tanto alla dogana nonostante mi abbiano aperto la borsa e ho perso dieci anni in un istante da cui i capelli bianchi a parte le battute me le hanno aperte e trovati gli ho detto sono rocce per cui non mi potevano dire niente il fatto assurdo è che le analisi ci dimostrano qualcosa di incredibile torno un attimo alla questione degli scheletri sì sicuramente il resto della città è rimasto inalterato si è distrutto da solo per il corso del tempo la parte sud invece è letteralmente polverizzata sì è stato probabilmente la parte finale del conflitto comunque sia qualsiasi cosa sia successo che ha portato la disfatta di chi si trovava a Moenjodaro nella parte sud e poi da lì probabilmente la guerra è stata vinta da qualcun altro Davenport ma anche quelli che sono i dati oggettivi ci dicono più o meno lo stesso tra l'altro man mano che voi vi allontanate da quello che è stato chiamato l'epicentro i muri delle case aumentano in maniera proporzionale quasi a farci capire che più ci si avvicina all'epicentro più la distruzione è massima più ci si allontana meno come in una normale esplosione comunque un diametro di 400 metri è un ordigno sicuramente tattico ora non sono un esperto ma comunque bello grossotto perché la zona interessata è ampia la cosa assurda è che vi parlavo prima di una popolazione di 100.000 abitanti di un monito che viene dato nel Ramayana andatevene perché se no morirete vengono trovati 43 scheletri 10 di questi sono calcinati cosa vuol dire esposti a una fortissima fonte di calore che ha portato parole povere all'evaporazione della parte minerale delle loro ossa in alcuni casi questi corpi ritrovati erano in posizioni veramente strane una ragazza viene ritrovata riversa sulle scale mentre le sta scendendo un'altra coppia uomo e donna vengono trovati in questa posizione quasi a pararsi gli occhi o il corpo da qualcosa mi potrete dire sì va bene sono invasori che arrivano e uccidono queste persone frecce lance spade qualsiasi oggetto che entra nel vostro corpo per uccidervi scheggia le ossa lascia dei segni tangibili e già dagli anni 20 sia sul caso della calcinazione sia per la loro morte nessuno ha saputo dare una spiegazione ed è uno dei grandi dilemmi che ancora oggi troviamo a Moenjodaro Davenport ve lo rammentavo prima preleva anche lui dei campioni nel 77 e io ho gli originali perché nella fortuna di ricercare nel corso degli anni sono entrato in contatto con le due vedove la vedova di Vincenti e la vedova di Davenport che tra l'altro sta a Roma ancora viva e lei stava per buttare via tutto un sacrilegio non gliene importava più nulla per cui ci ha dato a me e al regista del documentario quelli che erano le ultime cose rimaste di Davenport tra cui le analisi originarie qui c'è scritto consiglio nazionale delle ricerche in realtà non è stato il CNR a fare le analisi è stato un gruppo di tre docenti universitari anzi un docente e un ricercatore qui ci sono i nomi due di questi sono morti l'ultimo è molto anziano ma l'ho contattato diversi anni fa e loro non parlano mai di radioattività loro non parlano mai di un ordigno atomico parlano come potete vedere qua di vetrificazione parlano di tutt'altro comunque sia di un evento che se va avanti di un evento che ha portato alla distruzione della parte sud della città ma dalle loro analisi quello che si può trovare è veramente affascinante e interessante perché si legge male è un po' sfocato nelle loro analisi c'è scritto i reperti sono stati sottoposti a temperature superiori ai 1500 gradi per tempi brevissimi anticipo una cosa io ho fatto fare quattro altre analisi tra cui una tramite History Channel e i risultati sono sempre gli stessi quindi un qualcosa che sprigiona un fortissimo calore per un brevissimo arco temporale non è altro almeno per me nella mia ipotesi che un evento di natura esplosiva quindi qualcosa che è esploso in quota queste sono le vecchie diffrettometrie degli anni 70 e non si andò oltre quello che era possibile fare con gli strumenti del tempo questi sono gli elementi da cui è composto il reperto analizzato negli anni 70 e già da qui se ci fosse stato un'esplosione nucleare avremmo trovato comunque sia terre o elementi fissili se non erro nel termine che comunque sono il residuo di un'esplosione nucleare qui si dice solo che si tratta di silicio al 86% con altri componenti che sono stati portati a temperature molto alte per tempi molto brevi in parole povere erano mattoni erano vasellame bracciali fatti con l'argilla del luogo che è grigia che sono stati appunto sottoposti a questa fonte di calore come vi dicevo qualche sassolino mi casca in tasca ovviamente tanti erano quelli piccoli qualcuno era un po' più grosso e faccio fare diverse analisi la prima tramite History Channel che dedica una delle sue puntate dell'enigma alieni che vi dicevo prima a questo argomento questa è una scansione al microscopio elettronico questo è il campione che gli ho dato che ovviamente è stato distrutto per essere analizzato quello che ne viene fuori è lo stesso risultato cioè si tratta di argilla sottoposta ad una fortissima temperatura per un tempo molto breve ovviamente questa è una parte delle analisi poi chi è competente in materia sa leggerle e anche questa analisi ci dice questo la cosa interessante è che anche questa analisi quella di History Channel fatta all'incirca nel 2014 ci dice che queste sostanze amorfe quindi fuse e risolidificatesi il tutto è avvenuto in un tempo molto breve e la cosa ancora più interessante e affascinante è che si trattava di una seconda fusione nel senso io ho creato un oggetto quello che poteva essere una ciotola la metto dentro il forno e la faccio cuocere per cui ovviamente la struttura chimica dell'oggetto cambia per diventare resistente e diventare la ciotola che magari utilizziamo oggi le analisi hanno permesso di vedere come questo secondo evento che ha portato alla fusione è una seconda immissione ad un'alta temperatura che ha portato invece allo scioglimento al diventare appunto un'amalgama in forme dell'oggetto anche qua non c'è nessuna traccia di elementi di origine atomica quindi prodotto di una possibile esplosione nucleare queste sono alcune delle foto dei corpi che vi dicevo prima dei 43 corpi trovati a Moen Jodaro una è molto bella molto particolare ogni tanto si trova anche in rete sono una famiglia babbo figlia e mamma che sono morti sull'istante praticamente riversi con la faccia verso il terreno qualcosa ha colpito queste persone ma qualcosa che non ha lasciato segni sulle loro ossa uccidendole all'istante loro sono caduti con la faccia in avanti poi i detriti e il tempo anche qui ha creato sedimenti e ha nascosto i loro corpi anche qua non ci sono tracce di armi di armi bianche quelle che erano utilizzate all'epoca chiedendo anche agli archeologi del posto la loro risposta è stata è uno dei grandi misteri di Moen Jodaro perché non sappiamo come una popolazione così immensa per quell'epoca sia scomparsa nel nulla e solo poche persone siano morte e siano rimaste lì vedete leggendo questo è tratto da Mortimer Wheeler il testo che poi era i primi risultati preliminari degli anni 20 degli scavi degli anni 20 già loro dicevano una morte improvvisa e violenta senza tracce di ferite ed armi bianche con evidenti segni di calcinazione e carbonizzazione delle ossa questi sono i documenti originali degli anni 20 dove si dà si tenta di delineare un quadro ma a tutt'oggi non c'è una spiegazione e anche qui guarda caso tutto quello che viene descritto tutto quello che viene trovato a Moen Jodaro sembra collimare totalmente con quello che è l'epica del Ramayana quindi questa battaglia tra Rama incarnazione di Vishnu e il demone Ravana che aveva rapito sua moglie tramite armi tramite Vimana e la cosa curiosa in questo caso delle armi utilizzate fino ad ora abbiamo parlato scusate così vedo la slide successiva abbiamo parlato queste sono sempre Moen Jodaro abbiamo parlato di un qualche evento di tipo esplosivo che può avere distrutto la parte sud della città ma allo stesso tempo nessuna radiazione non abbiamo un cratere e questi eventi avvengono questa foto che è un tomahawk che esplode in quota ci dà un po' l'idea anche se ovviamente quello che può essere successo è diverso quello che ci dicono i testi indiani Ramayana ma anche altri testi che ci parlano delle armi divine ci spostano la nostra attenzione su un altro tipo di armi vengono chiamate Tejas Astra Astra vuol dire arma Teja vuol dire o Tejas energia questo non lo so letteralmente vuol dire armi a energia o armi energia fate voi insomma mettete voi i termini come volete ovviamente non possiamo sapere di che cosa si parla io non vi posso dire un'arma al plasma un'arma a ioni un laser può essere tutto può essere anche qualcosa che non abbiamo ancora creato e inventato fatto è che i residui i risultati delle analisi ci dicono che la temperatura raggiunta è veramente sconcertante per tempi brevi ma i testi ancora più ci dicono che le armi di questi dei erano armi che non avevano niente a che fare con gli archi le frecce o quello che tutti conosciamo attribuiamo a queste epoche che la fusione è possibile ma lo escluderei perché comunque il diametro dell'epicentro è troppo piccolo cioè una bomba H o una bomba di quel tipo comunque creerebbe una zona di distruzione molto più ampia lo dico con cognizione di causa perché ci sono dei simulatori di esplosioni nucleari anche accessibili su internet per chi è interessato li posso dare anche il sito e ho fatto una simulazione con quel tipo di ordigni sì sì ovviamente è un calcolo ipotetico quello che ne viene fuori è una zona di distruzione che ha un range di almeno 20 km per cui qui si parla di 400 metri e basta è qualcosa di piccolo ma di estremamente potente che ha distrutto una zona precisa della città come vi dicevo non c'è cratere questo lo spieghiamo con un'esplosione in quota ovviamente si parla di ipotesi nel senso tutto è possibile come vi dicevo io per primo sono andato a Moenjodaro credendo avendo letto per anni di esplosioni atomiche in questa zona credendo che ci fosse stata un'esplosione atomica però una ricerca seria ti deve portare ci deve portare anche a cambiare un po' il metro se gli elementi che troviamo le analisi che facciamo ci fanno vedere qualcosa di diverso però come vi dicevo e batto sempre questo chiodo i test indiani ci parlano di Teja Astra quindi qualcosa di simile forse a quello che oggi stiamo iniziando a costruire armi al plasma non lo so ma comunque un qualcosa di concreto un qualcosa che ha creato una distruzione veramente importante in quella zona della città nel luglio del 2017 ho la fortuna di far rianalizzare alcuni campioni tramite il professor Roberto Volterri dell'Università La Sapienza di Roma ancora stiamo conducendo alcune analisi e lui ripone sotto il SEM il microscopio elettronica scansione rifà una diffrettometria i risultati sono gli stessi solo che dalle sue analisi viene fuori qualcosa di leggermente diverso cioè che la temperatura minima non massima raggiunta da questo evento esplosivo è dell'ordine dei 2000 gradi dobbiamo sottoporre a un nuovo test tramite un laser al tungsteno ma le simulazioni che sono state fatte sembra che anche qua ci portino alle temperature di tale Lammam cioè che gli oggetti che vi facevo vedere prima sono stati sottoposti per non più di 4-5 secondi a temperature vicine ai 6000 gradi almeno tra i sì certo io dico assolutamente io dico solo quello che dicono le analisi poi anche io ho la stessa opinione ma ovviamente ognuno deve trarre le sue fatto è che anche qui viene esclusa la radioattività e questi dati in più ci permettono di capire meglio cosa può essere successo queste vedete sono fotografie al microscopio a scansione elettronica questo è un altro tracciato uguale a quelli di prima perché ovviamente i campioni sono stati presi in vari posti dell'epicentro ma comunque si assomigliano sia come composizione questo è il picco del silicio calcio potassio ci sono elementi naturali tipici dell'argilla di quelle zone quello che non ci si spiega sono appunto i picchi di calore tra i 2000 6.000 gradi e i tempi estremamente ridotti campane c'ho 5 minuti è un modo per dirmi di abbozzarla ok ringrazio poi il vescovo chi è comunque venendo a un'ultima parte veramente interessante poi vi farò vedere alcune piccole particolarità venendo appunto siamo partiti parlando della civiltà dell'indo siamo partiti dicendo che questa civiltà non ha la scomparsa di questa civiltà ancora non ha una spiegazione si è collegato il ramayan a mohenjodaro si è collegato quella che è l'epica indiana ad eventi a tecnologie che non dovrebbero esistere in queste epoche e che ovviamente devono appartenere o essere appartenuti a qualcuno di estremamente avanzato la cosa curiosa è che se noi ci spostiamo queste sono delle foto fatte a puri vicino accanto al tempio jaganath che è il più importante della città puri è una delle sette città sante dell'india qui viene ritratto una scena proprio presa da ramayan alla battaglia finale tra rama che vedete con la pelle blu perché è un'incarnazione di vishnu e il demon e ravana a bordo del suo pushpa cavimana la cosa carina è che se noi andiamo a ingrandire è una parete neanche troppo grande sarà la metà di questa parete che avete davanti se noi andiamo a ingrandire questa zona c'è la battaglia finale come vi dicevo tra le forze del bene e le forze del male come anche il ramayana stesso ci dice e la cosa curiosa è che vengono raffigurati i vimana gli strumenti attraverso cui si arrivò a questa guerra finale e la cosa curiosa è che in un affresco del 1500 molto vicino a noi ma comunque con almeno 500 anni di storia i vimana vengono rappresentati in questo modo c'ho 5 minuti per cui sarò molto veloce ma i vimana sono presenti molto nelle descrizioni dei testi sacri epici indiani molto di meno sono le raffigurazioni questa è veramente direi quasi unica anche se ci sono altri templi nelle vicinanze che hanno i vimana rappresentati in questo modo qui vedete invece il pushpaka vimana del demone ravana la cosa curiosa è che ovviamente in un inglese un po' stentato abbiamo chiesto al bramino al prete di questo piccolo monastero da quanto tempo e come mai si raffigurassero in questo modo i vimana lui ci ha detto per noi i vimana sono fatti da sempre così e vengono da sempre raffigurati in questo modo infatti ci ha dato l'indirizzo di un alto tempio lì vicino a un paio di chilometri dove non le ho messe ma i vimana e questa scena è rappresentata più o meno nello stesso modo cioè questi oggetti a forma discoedale si potrebbe oggi dire di tipo damschiano che però hanno almeno 500 anni di storia che creano la distruzione sono parte della guerra che avviene a Mongeodaro e che guarda caso provoca la distruzione che abbiamo visto fino ad ora sono elementi però tanti elementi iniziano a creare degli indizi e tanti indizi iniziano a dare delle prove ovviamente passibili di modifiche di cambiamento ma penso che siano prove con delle belle evidenze e queste sono abbastanza emblematiche e sintomatiche quanto tempo ho? due minuti due minuti allora in due minuti parliamo di un'ultima cosa veramente interessante non ho avuto il tempo però qui in pochi secondi la civiltà arappa ebbe degli importantissimi scambi commerciali con i sumeri anzi ti rubo due minuti e poi questo per esempio è un obelisco dell'860 a.C. quindi dei popoli dopo i sumeri ovviamente ma per lunghissimo tempo si parla di scambi commerciali che avvennero tra Melluca che era l'antico nome appunto della civiltà ballinda e i sumeri stessi si parla di elefanti di pavoni si sa che dall'India si commerciava in lapislazzoli addirittura e questa è una cosa molto carina affascinante c'è chi addirittura ha ipotizzato che gli stessi sumeri almeno una parte dell'elite dei sumeri potesse avere avuto origine proprio dalla valle dell'Indo questa persona è Giovanni Pettinato che è stato il più grande sumerologo scomparso pochissimi anni fa lui aveva tre ipotesi ma disse la più probabile negli ultimi anni dal mio punto di vista lui Pettinato non Enrico è che una parte di queste dei sumeri del nucleo originario provenisse dalla valle dell'Indo e qui si dovrebbe aprire mille altri mille altri temi e non solo ritornando vedete anche la vicinanza questo è il Gujarat qui ci troviamo nella Mesopotamia Pakistan Afghanistan India del Nord sono qua per cui spazialmente le distanze erano veramente minime la cosa carina e qui ti rubo altri due secondi è il fatto che ci sono anche degli studi genetici che ci dicono come probabilmente la civiltà Vallinda sia riuscita ad arrivare addirittura nel nord dell'Australia perché non c'era nessuna traccia nessuna evidenza che lo potesse dire o dimostrare ma campionando il DNA delle popolazioni aborigine del nord dell'Australia è venuto fuori una cosa assurda cioè che alcune tribù quindi si parla di un numero consistente di persone alcune tribù avevano dei marcatori genetici unici e tipici solo dell'India e della civiltà Vallinda e addirittura si è riuscita a datare un'epoca in cui c'è stata questa contaminazione quindi il 2217 a.C. ora anno più anno meno decennio più decennio meno non cambia fatto è che in quell'epoca noi abbiamo la civiltà o dravidica o la civiltà Vallinda comunque due civiltà che dall'India riescono ad arrivare fino all'Australia e questo è un'anomalia così come la civiltà la scrittura della civiltà Vallinda è del tutto indecifrata ancora oggi e è uguale per non dire molto simile perché non si è non si è capito neanche se è una una lingua vera e propria oppure sono dei segni commerciali è sicuramente una lingua ma neanche ultimamente sono stati usati dei computer di intelligenza artificiale non sono riusciti dicono loro a rompere il codice quindi non c'è una stella di rosetta bravissimo non c'è una stella di rosetta che ha permesso di comprendere la loro lingua la cosa assurda è che se noi ci spostiamo a 18.000 km di distanza qui si vede malino però qui lo vedete bene questa sulla sinistra è la scrittura Vallinda questa subito sulla destra e poi ci sono le colonne di riferimento è la scrittura rongo rongo ora il rongo rongo appartiene all'isola di Pasqua 18.000 km nel 1932 Guillaume de Vessy che era un linguista ridicolizzato ovviamente perché la comunità scientifica archeologica non può fare altro che ridicolizzare quando c'è questo tipo di cose fatto è che nessuno ad oggi anche il rongo rongo è indecifrato nessuno ad oggi è riuscito a capire come mai ci sia un altissimo percentuale di corrispondenze tra simboli vallindi e simboli rongo rongo questo per dire cosa e concludo che la percezione che abbiamo noi del nostro passato inteso come storia dell'umanità e lo abbiamo visto anche ieri vedendo qui vicino dei reperti la percezione che abbiamo del nostro passato è sicuramente distorta alterata da chi ha vinto le guerre i vincitori dettano legge e riscrivono la storia ma allo stesso tempo è alterata da quello che abbiamo perso che non ci è voluto non si è voluto darci o farci arrivare fatto è che nella ricerca ufologica moderna così come nella ricerca di certe tematiche sul passato spuntano ogni tanto fuori o delle gole profonde o comunque degli elementi spunta fuori la NASA nel 2013 che parla di possibili contatti avvenuti nell'antichità e spuntano fuori città distrutte con non si sa che cosa o almeno forse lo immaginiamo e comunque tecnologie come quelle dei Vimana o armi come quelle usate nei Vimana che generano e creano un certo tipo di distruzione prima di chiudere vorrei raccontarvi quella che è una storia che è presente nel Mahabharata il Mahabharata è molto più grande del Ramayana si parla di almeno centomila versi c'è Arjuna che è uno dei personaggi principali e Krishna che è il suo consigliere nonostante lui appartiene a una famiglia i Pandava i suoi nemici sono parenti i Kaurava non riesce a vincere la guerra per cui Krishna essendo un'emanazione divina che cosa fa fa arrivare sul campo di battaglia un Vimana Arjuna entra all'interno del Vimana e viene portato lui dice il Vimana inizia ad alzarsi e lui inizia a vedere sempre più piccolo il campo di battaglia vede gli uomini che diventano come formiche vede i fiumi che diventano tipo rigagnoli esce e questa è una descrizione nel Mahabharata esce da quello che è il nostro pianeta perché c'era l'idea di una sfericità e viaggia in quello che è lo spazio profondo viaggia finché questo oggetto in cui si trova si ferma davanti a un enorme pianeta artificiale che viene chiamato Indra Loka cioè il pianeta di Indra e la cosa bella lui entrerà gli vengono date le armi che poi gli permettono di vincere la guerra la cosa incredibile è che la descrizione che lui fa prima di entrare è quella di vedere questo enorme io me lo raffiguro come una morte nera di guerre stellari ma questa è la mia visione quello che lui vede al di là di queste bogliate mie è il fatto che lui descrive lo troviamo nel Mahabharata descrive migliaia e migliaia di vimana che entravano e uscivano da questo pianeta artificiale o sostavano fuori da questo pianeta artificiale ora se io mi posso essere inventato tutto così come tanti studiosi nel corso dei decenni mi chiedo come mai una delle epiche più antiche dell'umanità abbia una descrizione così vivida poi andrebbe letta così profonda paragonabile a quello che è la moderna letteratura fantascientifica come facevano a immaginarsi una cosa del genere dando per scontato che sia vero che il Mahabharata viene messo in forma scritta verso il 1000 avanti Cristo quindi 3000 anni fa beh in Grecia avevano il cocchio che volava in cielo avevano alte tradizioni avevano il martello di Thor comunque sia nulla di paragonabile a queste descrizioni qua per cui sono più le domande che le risposte però un tassello alla volta un sassolino alla volta si sta delineando un quadro e si sta forse capendo e comprendendo sempre di più quello che è un diverso passato del nostro pianeta una storia che va veramente riscritta e va rivista totalmente vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti